Inizialmente quando sentivo, vedevo, l'elfo, pensavo, vabbè, questo è il classico rap pirata, l'anceno chinesse, il classico che vuole fare il purista, che palle, no? Perché comunque io sono, ho vecchia scuola, sono old school, sono underground, sono per quella scuola, però comunque voglio un minimo di modernità, no? Poi che succede? Che mi capita magari di tanto in tanto negli ultimi anni di aver ascoltato qualcosa e detto vabbè il ragazzo è proprio il classico nettime, mi sembra come se volesse fare quello che invece poi ho scoperto è. E questa è la differenza. Quando ho visto l'intervista di Arcade Boys ho visto una grande persona e allora mi sono iniziato ad appassionare su questo personaggio, no? Già in qualche modo mi era piaciuto nella strofa con Nico Pandetta, con Bang Bang, mi era piaciuto, ho detto ah ok, ci sta. E mi sono insomma interessato un po' questo personaggio. E raga devo dire che è una persona veramente genuina, umile, che è se stessa. Tra l'altro adesso l'ha chiamato la Major, mi ha fatto troppo ridere. Wow, dicono che le Major ti fanno diventare femmina, fatto che sta battuta mi ha fatto schiattare. E invece no, è stato chiamato proprio per essere quello che è. E arrivarci con quel dialetto, con quel tono, con quel mood, ho tanto di cappello, non era il merito. E quindi lui, l'elfo non è uno che vuole fare l'underground, è uno underground. E infatti non a caso viene dalla Catania, dalla Sicilia, e riporta quei valori. Cioè è uno consapevole, cioè quando tu nasci in certi posti comunque lo sai, quello che gli altri reprostentano, tu hai un'altra tipologia di valore. E quindi di conseguenza sei anche un po' confuso quando vedi la nuova scena. Non a caso, bellissima rima quando dice, sempre nel pezzo bang bang, sono una persona tranquilla ma non mi cagare il cazzo, non mi rompere la minchia, no? Quello è il concept suo. E lo porta bene. Quindi di conseguenza hai trovato il talk già dal trailer, è tutto da dire. Si conferma sto ragazzo, si conferma sempre di più e sta spaccando tutto. Quindi io sono contentissimo di poter dire che l'elfo è un po' il nuovo paladino del rap italiano. Oggi che non rappa più in nessuno, lui lo fa e non potrebbe fare altro. Perché veramente, cioè, non mi sembra il tipo che possa fare il pagliaccio. Proprio non mi sembra il tipo che possa compromettersi a livello idealistico, a livello di personaggio. Perché lui è quello che è, punto. Ed ha un'educazione radicata che va oltre i valori dell'hip hop. Cioè la sua educazione è la stessa che poi, a fatti concreti, insegna l'hip hop. E quindi non è che tu lo puoi prendere e trasformare sto ragazzo. Ed è lì che comunque fa il suo, con umiltà, spacca. E io dico, benvenga l'elfo, gli auguro tanto successo, tanti soldi, tanta visibilità. Perché queste persone se lo meritano. Al di là del gusto musicale. Sicuramente non è quella tipologia di rap che io mi ascolto. Ma io non ascolto neanche troppo rap. Non è quel magari che me lo metto in cuffia sempre. Però ogni volta che l'ascolto penso rispetto. E questo è. E questo Real Talk è andato giù che è un piacere. Come la cocchina bella fresca di Aldo Giovanni e Giacomo. Proprio lì. Ed è un piacere vederlo. Mi viene in mente Pepi quando faceva, fece quella rima, da poco sulla scena coi miei limiti. Ecco, lui mi sembra invece una persona che sicuramente ha avuto i suoi problemi sociali, i suoi disturbi, i suoi limiti magari. Perché comunque magari anche il suo modo di esprimersi non è uno che parla tanto, è uno che lo fa con la traccia. E mi sembra l'evoluzione di quel mood lì che portava Pepi nel 2009, siciliano e comunque moderno. Quindi Big Up, Grande Elfo, monologato podcast, supporta, supporta di brutto.